La Corte Suprema indiana ha prolungato di sei mesi il permesso a rimanere in Italia concesso a Massimiliano Latorre per le sue condizioni di salute. La decisione è stata annunciata oggi dal Tribunale che l'ha giustificata con le motivazioni mediche legate alla convalescenza dopo l'attacco ischemico subito dal Marot Tarantino il 31 agosto del 2014. La Corte Suprema ha anche fatto sapere di aver trasmesso al governo di New Delhi la richiesta di arbitrato internazionale presentata dai rappresentanti italiani per il caso dei due fucilieri della Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone accusati di avere ucciso per errore due pescatori indiani scambiati per pirati durante una missione antipirateria nel 2012. La parola aspetta ora l'esecutivo indiano. La torre si trova in Italia da quando fu colpito in India da ischemia. Lo scorso 5 gennaio è stato sottoposto ad un intervento al cuore. Ad aprile aveva ottenuto una proroga di tre mesi che sarebbe scaduta mercoledì. Salvatore Girone invece si trova ancora bloccato a New Delhi.